Ok, piloti, facciamo la nostra parte! Non so, forse è lui che mi arrivo! Non possiamo restare qui! Via! Ricarico! 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 Pilota nemico eliminato. Pilota nemico distrutto. Pilota nemico eliminato. Eliminate quei titan! Foco! Foco! Fate vincendo! Forza! Il pilota alleato si è lanciato. Vai per l'alleato a terra. Una perdita è ingresciosa. Vai per l'enemico distrutto. Versando attaccato la pilota alleato. Il pilota non ci sono stati. Attenzione! Il pilota non ha sperato. Attenzione! Pilota nemico all'attacco. Sparate ancora! Senza altro, pilota. Finisci il lavoro. Sparate ancora! Sparate ancora! Copacolo tu che ti metta! Per il pilota all'init Unity. Sparate sia! Sparate le sc package! Scendere! PuUM! Igor... Sì, andrà il tuo Titan. Due andati, tocca gli altri. Reforte, reforte! E' a terra! Reforte, servono reforti! Prepararsi a Titanfall. Pilota a bordo, bentornato. Aspettazione, rievo per danni allo scafo. Pilota nemico eliminato. L'onda arca potrebbe prevenire ulteriori minacce. La squadra non sa con chi ha che fare. Prepararsi a tombo della colonna. Sui porti e a terra con il Cielo. Pesagno attaccato da Grotta mi è. Prodonna urbata. Attenzione, siediti al basso del T. Uno St disattore può aiutare la voca. Nucleo spada pronto. Tieni vicino il minuto. Non riesco a venire. Ti metto a sentire il Minuto. Si mette in Sima Rocco spada. Con un procchio in Calvita. Sperate a quel Titan! La squadra non sa con chi ha che fare! Colpo doppio! Ho una batteria qui! Sui! Ha! Ho! 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 Il sistema sono fuori, insieme siamo più fuori. Adoro, rasterita al pilota. Gatti fettici, cercare di fare. Attimo sguardo approccio, insieme a tutti i sali indistrutti, attenzione più nobile, e tra i tanno stili sono superiori all'inutro. Abbiamo sguardo! Stiamo vincendo, state facendo un buon lavoro. Stai per ottenere il tuo Titan. Il tuo Titan è pronto, prepararsi a Titanfall. Non dipilota la via, concentrati, pianifico, attacca. Che brutta vita. Il 2030 è un viaggio, attacca e non terribilato. Abbiamo sguardo all'interno di lato, in un'inizio più grande. Tanti vincendo il tuo Titanfall. Quindi se non è più a trangere il Titanfall. Che è successo? Non è più a fare. 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 Bel lavoro, pilota. Così si fa. Cosa, cosa, cosa! Cosa, cosa! Non farli scappare! Non farli scappare!